Musica Salve a tutti amici sono MrDelleric e benvenuti qui con me ad un nuovo video e come vedete siamo praticamente su Skyrim perché come vi ho anticipato su Facebook il sondaggio ha avuto due giochi che sono alla parità quindi proprio Skyrim e State of Decay per cui ho deciso di fare due video di entrambi i giochi giusto per presentarveli per decidere poi fare un nuovo sondaggio e per decidere quale dei due iniziare e quale tenere come riserva allora come vedete vabbè io sono ancora con la giacca addosso perché fa un freddo porco in questo cazzo di negozio direi che qua Skyrim eccezionale siamo cominciati posso muovermi allora vedo che questo ha delle occhiaie che sembrano un pipaiolo che cazzo è questo ma siamo legati? ma che cazzo è siamo dei prigionieri? eccezionale oh lo stronzo mi parla qua madonna ma sei un nordico sei un nord tu allora sicuramente questo è un nord allora io ho giocato ok questo vorrei girarmi intorno va bene io ho giocato a oblivion non ricordo assolutamente la storia perché ci ho giocato veramente parecchi anni fa per cui ho intenzione se si deciderà di giocare a Skyrim di giocarlo come potrebbe giocarlo a qualunque persona che approccia un pochino il gioco e quindi non farò guide cose eccetera girerò proprio veramente un po' a cazzo farò le missioni eccetera per cui state zitti state zitti che sennò ci inculano con la sabbia cioè questo sarebbe un re ma non hai freddo con quelle scarpe tu te sei stato sicuramente arrestato per attiosceni in luogo pubblico guarda che occhiaie che hai hai anche la voce del pipaiolo comunque no stiamo arrivati a destinazione allora suppongo che molti di voi questa presentazione l'abbiano già vista l'abbiano già vista molte volte magari su altri gameplay perché di certo il mio non è il primo e probabilmente non sarà neanche l'ultimo però credo che possa essere un gameplay che possa risultare essere divertente perché comunque poi ognuno lo gioca a modo suo allora se poi non mi sbaglio se diciamo elder scroll ha mantenuto il suo standard dopo noi dovremmo scegliere la razza e la classe allora a me piacerebbe fare un secondo sondaggio anche sulla razza e la classe da dover scegliere non mi importa poi se vogliamo fare che cazzo ne so l'orco mago o l'elfo guerriero cioè non mi interessa il tipo però fare un qualche cosa magari di divertente di simpatico per cui volevo eventualmente anche il vostro consiglio che ovviamente dovete scrivere nei commenti qua sotto ok per cui eventualmente intanto bisogna decidere con un sondaggio che cosa andremo a fare se skyrim o state of decay quindi prima dovranno uscire i due video intanto però se volete consigliarmi una qualche razza o classe eventualmente da poter scegliere per il futuro ben venga sempre se sempre se ci sceglieremo di giocare a questo gioco e sempre se sarà possibile fare questa scelta insomma no cosa succede? siamo arrivati? ma sei anche simpatico fai anche lo spirito ma che cazzo dite? allora io suppongo allora io ma io suppongo che ovviamente ci dovremmo salvare perché sennò il gioco finisce ancora prima di cominciare per cui sicuramente ma così com'è che si chiama quel tizio? ma ma sei un fessacchiotto sei morto così come un coglione ok io io ma come chi sei? mi hai arrestato e non mi non mi sai neanche dire che cazzo sono allora vabbè fondamentalmente qui dovremmo scegliere la razza la classe dovremmo scegliere praticamente chi cavolo siamo ognuno ovviamente ognuna delle razze ha diciamo la sua le sue peculiarità mamma mia che brutto e adesso qualcuno mi deve spiegare perché gli elfi oscuri o madonna mia anche gli elfi dei boschi c'è cazzo uno si immagina gli elfi come nel signore degli anelli con con un minimo di grazie e bellezza cazzo questo qua è un alieno porca puttana cioè sei caduto da terra da piccolo è pazzesco pazzesco avete ma vara che roba ma gli elfi fan veramente cagare sono stati veramente partoriti da da un incrocio tra un alligatore e non lo so da da uno stercolaro non lo so neanche come si siano accoppiati quelle due cose ecco già l'orco ha il suo perché l'orco non ha mai detto nessuno che deve essere bello d'accordo deve essere brutto deve puzzare deve picchiare generalmente però nessuno toglie che potremmo fare anche un ladro per esempio orco o qualcosa del genere allora ovviamente non vi ho dato un assaggio del gioco io vorrei che il prossimo video possa essere diciamo così la scelta effettiva della classe la scelta effettiva della razza io adesso ovviamente sceglierò una razza e una classe giusto per vedere diciamo così come funziona un pochettino il gioco eccetera e darvi un primo assaggio però dopo ovviamente ricominceremo una partita dove però sarete voi a scegliere per me la razza la classe eccetera eccetera della nostra del nostro personaggio allora io in vedo che ci sono vabbè le stesse le stesse razze madonna me l'ero dimenticato questo eccolo qua l'incrocio con l'alligatore e lo stercolaro no devo dire che forse un argoniano che ha trombato con un essere umano potrebbe venire fuori ecco una cosa di questo tipo magari comunque vabbè io avevo una passione per i personaggi furtivi come penso il il buono il buon 80% dei giocatori di oblivion o di skyrim per cui amavo particolarmente questa razza anche perché mi piace molto quando vado a dormire fare le fusa appallottolarmi su una coperta e fare le fusa per cui pensavo che questo personaggio potesse essere simpatico nome lo chiamerei proprio prigioniero infatti no va bene allora scelgo kajiti scelgo te lancio una sfera poche il corpo allora sesso molto no va bene allora sesso maschile questa era una battuta che tonalità di pelle che bello posso anche scegliere non me lo ricordavo mamma mia non mi ricordavo tutto ciò allora l'ambientazione la vedo piuttosto innevata potremmo fare un gattaccio bianco peso oh madonna lo facciamo grosso oh mamma mia vai grossissimo c'è una palla di pelo modelli preimpostati di che cosa no 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 va bene così no ha cambiato no ok la testa la testa lo sporco ma che sporco è sporco cicatrici vabbè la personalizzazione ragazzi la 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 vedremo ma no che che gallate che figate anche le cicatrici vabbè lasciamo stare pittura di guerra addirittura no fatemi vedere che cosa c'è come pittura di guerra ma che schifo ma che cazzo è cioè non è una pittura questa eh sono io che sono nato così con il pelo lì così vabbè eh qui questa qui è una cicciata ok no no mi sta bene mi sta bene torna al tuo posto torna al tuo posto va bene va bene così ok volto tipo di naso altezza non ce ne importa adesso voglio andare avanti voglio far vedere un po' di cosine simpatiche ok allora anche gli occhi eccetera non ci interessa nulla le sopracciglia la bocca i capelli come si fa a andare avanti ah con la R che si dice fatto ok confermare il nome del personaggio no se mi dici però come si fa a cambiare il nome come cambio il nome wey Gianfranco come cambio il nome non mi fa cambiare il nome qua com'è com'è sta cosa wey allora è tutto molto bello a confermare dare un nome al personaggio sì scusatemi ok allora ovviamente mister da Elric e ci tengo che mi venga che essere chiamato mister anche in questo gioco ovviamente ma che cazzo dici non è vero e allora lasciatemi ma perché così a gratis mi fanno fuori gratis così ma cioè ma il capitano devo seguire questo che ha l'elmo grande quattro volte la sua testa questo qua quando si muove fa come le bamboline presenti quelle che stanno sulle macchine così sui parabrezza così che brutto no ma mi fanno fuori così a cazzo che figata questo è il costume del romano praticamente capitano sarei innocente io non ho fatto un cazzo ma avete preso per sbaglio scusate scusate rumori poco che cazzo è non è nulla cioè avete dei problemi con le tubature non è nulla ma scusate io in realtà sarei qua per sbaglio cioè vi spiego la situazione ero nelle frasche perché stavo cagando ragazzi non stavo facendo qualcosa di furtivo mi avete interrotto sul più bello no no così no non voglio finire in quel cestino fascisti fascisti nazisti che non siete altro non voglio finire così no come il gatto mi hanno dato del gatto fighissimo avete dei problemi con le fognature qua con le tubature no 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 perché mi spostate il corpo non voglio finire con la testa con la testa con l'altra testa tutti insieme nella stessa cesta dai che schifo dai almeno pulitelo ma dai non è igienico oh che bello cos'è quella cosa la voglio cos'è quella cosa la voglio si può cavalcare quanto costa la pago la pago no cazzo che figata voglio cavalcare puttana troia puttana troia fa pure gli effetti speciali merda merda che cazzo è successo cosa sto facendo sto male sto vomitando che ah ok vabbè per muoversi dai dai cosa bisogna fare dai aiuto vedo tutto sfocato che cazzo succede che cazzo succede qua fuori che cazzo è ah sapevo vedi è il mio salvatore quel drago cosa cosa c'è cosa vuoi dove bisogna andare su per la torre mi sembra giusto dai salviamoci andando su per la torre poi come cazzo scendiamo dalla torre noi dobbiamo solo dobbiamo solo portare qualcuna di queste carine dio santissimo che cazzo è puttana miseria sento sento odore di che buono carne è bruciato dai cazzo ha un bastone impiantato nella schiena come faccio a prenderglielo cosa devo fare devo saltare ah devo saltare ah devo saltare lì ah geronimo ahia cazzo mi sono bruciato le chiappe vaffanculo non posso ancora raccogliere nulla devo scendere qua suppongo merda ok dai no no fermo bimbo bimbo fuori dalle cazzo oddio che cazzo ha bruciato questo bambino fatti sotto piglia un'arma datemi un'arma generale Tullius cerchi il generale Tullius ma scusa non volevate prima tagliarmi tagliarmi la testa cioè adesso cosa come ci si abbassa oh cazzo cazzo che cazzo cavalcalo vieni qua cavalcalo sali cazzo in culo ma come cazzo allora col CTRL vabbè voglio l'arma marco perché ma no ma aspetta un'arma questo sta poco bene sparano le palle di fuoco bravi bravi sparate le palle di fuoco un drago che sputa fuoco bravi dove cazzo devo andare io dai Giorgio fammi strada dio bono cosa succede cosa devo fare dai cazzo cazzo oi porca troia ok devo seguire questo ok seguo questo seguo questo mi sei simpatico sei un grossissimo nord e io seguo i grossissimi nord mi fanno cattiveria mi fanno sono nato nel paese sbagliato cazzo dovevo nascere in Finlandia in Svezia in uno di quei posti lì proprio mangiare carne cruda ok ok allora siamo qui ah ce n'è già uno eh vabbè beh che cosa pensavi fosse cazzo cazzo riesco a farlo andare tra l'altro abbastanza sciolto d'accordo non è a settaggio massimo questo gioco liberami sì ah cazzo ancora sono legato va bene deprediamo i cadaveri è la mia è la mia cosa preferita allora ascia di ferro corazza e stivali va bene lo lasciamo proprio in mutande no voglio anche le mutande è possibile ah ok no così lo devo equipaggiare così posso equipaggiare ok così equipaggio e così equipaggio ok come allora col tab si devo capire anche i tasti allora ragazzi io prima di andare avanti direi che abbiamo visto l'abbiamo visto anche a sufficienza anche se dove? cosa? oh merda oh merda un combattimento ragazzi va bene facciamo questo no ho colpito ho sbagliato aspetta ferma ma perché attaccano me? perché vedo che sono il più piccino muori stronzo sono ancora cucciato ok vigore basso d'accordo ho capito ho fatto una merda di combattimento ho colpito il cazzo no ma qualcosa ho colpito forse proprio lui tra l'altro vabbè allora bello 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 no questi non mi piacciono questi non mi piacciono preferisco l'ascia bello bello ma hanno le stesse cose no non mi interessa si ok devo premere questo per parare ho capito il tasto destro va bene allora ragazzi io direi che per il momento è sufficiente inizieremo la vera e propria avventura una volta finite ho sentito si ho capito una volta finito direi il sondaggio deciso il gioco quindi che giocheremo spero intanto di avervi dato un piccolo assaggio di che cos'è Skyrim e come potremo giocarlo insieme ovviamente avete visto io non sono assolutamente capace a giocare per cui dovrò impararlo anche un pochino nel frattanto ragazzi io ancora vi ringrazio per aver partecipato al sondaggio per essere ancora qui con me spero che di essere ancora all'altezza delle vostre aspettative e come sempre mi raccomando iscrivetevi su facebook commentate mettete un mi piace se il video vi è piaciuto iscrivetevi e a presto alla prossima ciao ragazzi